Sì, è una partita che abbiamo messo tutto, cuore, anima e anche questa partita mi è abbassata. Mi ha perso di poco anche questa partita come quelle prima e ci dispiace molto perché veramente una settimana ci mettiamo tutto un impegno possibile, immaginabile, ci mettiamo un sacco di pressioni e ancora una volta la partita non ci favorisce e sicuramente oggi eravamo più 15, più 14 e dovevamo chiudere la prima questa partita. Terzo quarto, quarto quarto, abbiamo concesso un po' troppo in difesa, loro non hanno preso fiducia, hanno messo i diri anche molto difficili obiettivamente. Siamo dispiaciuti però la stagione è ancora lunga, manca ancora tutto il ritorno e l'unica cosa positiva è che anche oggi abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo perso di pochissimi punti e ci basta veramente poco per andare sicuramente meglio. Ovviamente oggi, come ho detto prima, dobbiamo chiudere la prima la partita, al terzo quarto, dobbiamo andare anche su più 20 così la partita è finita, invece come trovi di qua, una po' la persa di là, siamo punto a punto perché come al solito queste partite le perdiamo, un po' di esperienza, ci manca un po' anche di fortuna. Però niente, dobbiamo lottare, allenarci come si sta avvenendo durante la settimana e proviamo ad andare meglio. Sì, sicuramente è una partita difficile a Venezia, a Milano in casa, però abbiamo visto che anche queste squadroni hanno dei cali, non sono perfette e quindi possiamo dire la nostra sia a Venezia sia a casa con Milano.